Morte in culla a Palagiano, nel Tarantino. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il piccolo, di nove mesi, è morto in casa. A darne notizia è stata la ASL di Taranto. Secondo quanto riferito dai genitori, il bimbo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata. La morte sarebbe avvenuta durante il sonno. Al suo arrivo al pronto soccorso, il piccolo era già morto. Nella diagnosi dei medici si parla di arresto cardiocircolatorio. Non sono state riscontrate e chimosi. La polizia ha raccolto la versione dei genitori del bimbo. Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà l'eventuale affidamento dell'autopsia, per verificare se il decesso sia da attribuire a un'insufficienza respiratoria dovuta ad un improvviso rigurgito o ad altre cause.